Per la nostra campagna TGR Tour Terre e Sapori andiamo a San Piero a Grado, dove sorge uno dei centri di ricerca agroambientali più importanti. Si estende su un'area vastissima, dalle culture industriali alla zootecnica, dall'orticoltura alla selvicoltura a scopi energetici. Un'azienda agricola di avanguardia dove si fa sperimentazione. Roberto Vigiani. Il centro di ricerca d'Europa, a cui si studiano sistemi agricoli sostenibili, si estende su una vastissima area di 1.400 ettari all'interno del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massacciuccoli e della riserva della biosfera Selva Pisana. Inizia tutto nel 1963 quando l'ex tenuta di Tombolo fu concessa all'Università di Pisa. In questa struttura facciamo prevalentemente attività di ricerca, di supporto alla didattica per i dipartimenti di scienze agrarie e di scienze veterinarie e attività anche di produzione, nella convinzione che l'attività di ricerca e di didattica possa essere ancora più efficace quando possa essere sviluppata in strutture che sono al passo coi tempi. Una struttura moderna basata sulla ricerca per identificare modelli di sviluppo sostenibile del territorio e del suo dessuto sociale ed è proprio con il territorio che il centro, intitolato Enrico Avanzi, rettore dell'Università di Pisa dal 1947 al 1959, ad avere un rapporto molto stretto di collaborazione. Interagiamo a più livelli, sia con il territorio provinciale, dove siamo inseriti anche a livello di tessuto sociale, prova ne sono le attività di agricoltura sociale. Interagiamo con l'intero territorio regionale perché abbiamo sviluppato nel tempo numerosi progetti finanziati prevalentemente dall'Unione Europea e dalla Regione Toscana. con le aziende del territorio. Laboratorio per la ricerca, ma anche laboratorio a cielo aperto, terreni con destinazioni diverse, dalle culture industriali alla zootecnia da carne e da latte, con l'allevamento della pregiata razza bovina a mucco pisano, dall'orticoltura alla silvicoltura a scopi energetici. C'è la ricerca, c'è lo sviluppo e c'è soprattutto il risultato pratico poi alla fine, perché producete comunque qualcosa che poi vendete anche se è una vendita ristretta. Sì, noi vendiamo alcuni prodotti esclusivamente ai dipendenti dell'Università di Pisa, ma vendiamo anche sul mercato perché come dicevo prima queste realtà devono essere comunque una dimostrazione che alcune innovazioni sono direttamente trasferibili all'attività produttiva. Fertilizzazione con fronti varietali, qualità dei prodotti alimentari, controllo non chimico della flora infestante, un centro d'avanguardia riconducibile ad un ente pubblico che spesso però deve scontrarsi con la burocrazia. Sicuramente rispetto ad un'azienda privata abbiamo maggiori difficoltà nel trasferire le decisioni anche di tipo imprenditoriale all'applicativo perché ovviamente nel nostro caso non è sufficiente avere i fondi, diciamo avere i fondi è la condizione necessaria ma non sufficiente per sviluppare le cose.